Le lesioni e i segni di criticità sono visibili ovunque. Crepe, porzioni crollate, ferri arruginiti che spuntano da squarci di cemento ormai friabile. Siamo sulla provinciale Venti, la Ostuni-Villanova e quello che vedete è il cavalcavia della stazione ferroviaria della città bianca che incrocia la statale 379, la Barilecce, con il sottostante transito dei treni della direttrice Barilecce. Realizzato più di 30 anni fa, necessita da tempo ormai di interventi statico-strutturali, diventando, dopo il crollo del Ponte Morandi, una delle infrastrutture più a rischio della Puglia nelle ultime ore, peraltro segnalato al Ministero delle Infrastrutture dopo il sollecito ministeriale inoltrato a tutti i comuni lo scorso 16 agosto all'indomani della tragedia genovese. Ci vogliono interventi strutturali perché i ferri sono tutti scoppiati e pregiudicano la stabilità, la statica del ponte. Come a Genova, il ponte sovrasta alcune abitazioni private. Proprio qui, un anno fa, si sfiorò la tragedia con parte della struttura crollata. Propriamente transitava un'auto, senza mai che da allora sia stato fatto nulla. Abbiamo sempre giornalmente la paura di attraversare questo posto perché non viviamo tranquilli. Macchina distrutta, noi siamo finiti all'ospedale, tutto quello sull'opera se ne sono andato. Pronto, non gliene frega niente di quello che succede. Bisogna aspettare che succeda qualcosa, naturalmente.